Lavori in vista per la palestra comunale di Piario, qual è l'obiettivo dell'intervento? L'obiettivo dell'intervento è ambizioso per un piccolo paese come il nostro perché andiamo a ristrutturare e a mettere in sicurezza la palestra comunale, palestra che è stata costruita negli anni 70 e di conseguenza ha bisogno di alcuni interventi fondamentali. Le abbiamo suddivisi in tre blocchi, il primo blocco è la creazione di tribune in quanto le tribune non c'erano e diventano indispensabili perché vorremmo usare la palestra anche come sala multifunzionale sia per riunioni sia per proiezioni e pertanto le tribune sono indispensabili. Il secondo blocco è la ristrutturazione di tutti i servizi perché i servizi hanno bisogno di un intervento radicale oltre a essere adeguati per i diversamente abili in quanto alcune squadre di diversamente abili ci hanno chiesto l'utilizzo della palestra. Inoltre andremo a creare, e questa è la cosa più importante, tutte le uscite di sicurezza che oggi non abbiamo. avendo un'uscita a gradini, uscita e ingresso a gradini, l'unica che porta in palestra. Pertanto noi andremo a fare tre diverse uscite, due per il pubblico e una per gli atleti, uscite agevoli, proprio in caso di bisogno. Inoltre un altro intervento molto importante è la stabilità della struttura, stabilità in caso di eventi sismici perché essendo la palestra un prefabbricato oggi non è adeguata e andremo tramite piastre opportunamente studiate, opportunamente progettate a mettere in sicurezza anche per eventi sismici. Diciamo che qui fortunatamente non siamo una grande zona sismica con grossi pericoli, però visto che ci mettiamo mano andremo a fare anche questo intervento che ritengo indispensabile. Quanto costerà l'intervento e come verrà finanziato? Questa è una bella domanda perché è un intervento che per il nostro comune è un intervento oneroso. Non ci sono contributi, abbiamo dovuto ricorrere a un mutuo, fortunatamente il comune di Piario non aveva mutui e pertanto la nostra capacità indebitatoria è abbastanza elevata. L'intervento costa all'incirca 300 mila euro, contiamo un po' sugli sconti, però più di 200 mila sono di mutuo. I lavori partiranno quando? Altro grosso problema, il patto di stabilità ci impone di iniziare, finire e pagare i lavori entro il 2012, per cui proprio lunedì andremo a fare il bando e faremo una gara ad inviti, pertanto riteniamo che per i primi giorni di ottobre... Grazie a tutti!